Il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, e gli altri otto tra amministratori e funzionari comunali finiti arrestati il 30 maggio scorso hanno avuto la revoca dei domiciliati. Le accuse sono di concussione, corruzione, abuso d'ufficio, falso ideologico e turbata libertà nell'appalti pubblici. Furono coinvolti anche il vice sindaco, un assessore, due consiglieri comunali, il segretario comunale, i funzionari responsabili dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria e l'amministratore di una ditta di trasporti operante nel settore della raccolta dei rifiuti. Il giudice per le indagini preliminari, Sergio Marotta, ha emesso l'ordinanza di revoca delle misure cautelari interdittive disponendo per tutti gli indagati l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria competente per territorio.